Spettacolo e cultura, il nostro contenitore di approfondimento. La vita è molto lunga, la vita è pericolosa. La vita è molto lunga, la vita è molto lunga e la vita. E uno che sta là, che è tornato a la vita, allora noi stiamo a casa, che aspettano il mio marito, che è tornato a la vita. Stiamo sempre preoccupati, e diciamo, tornerà? Non tornerà. e si basta una lampa, una tua allora noi diciamo che qualcosa è successo pur perché si sentono tante cose l'altra volta, l'altra volta per televisione la barca torna sola e la barca torna sola e uno si fa questi fatti e dice vuoi regare la barca di mio marito e si, ci ha messo annuncia zio, annuncia zio tu, marì, marì, fai figli di Salvatore Gabriele ti hai dato la buona notizia annuncia zio, annuncia zio a parte il fatto che io non so marì o altro e vi hai fatto il riconoscimento annuncia zio, annuncia zio tu, marì, marì, fai figli di Salvatore Gabriele ti ha dato la buona notizia annuncia zio, annuncia zio Gabriele, tu sei scemo che cosa si fa? sono un santa che c'è su allora, allora si dice non fa e che buo? sono il carubino, mi ha mandato Gabriele devi bo creare l'atmosfera celestiale carubino? devi bo creare l'atmosfera celestiale carubino, tu te ne hai? qua si vede mio marito i cori chi si è lo carubino? e io ma sia stavo raccontando un fatto di mio marito allora scelta che sono umile ma onesto allora gli stai detto non ti preoccupare io trovo un altro lavoro trovo un altro lavoro è andato in un posto dice io ho bisogno di lavorare ho bisogno di lavorare che sei tu andato? noi abbiamo lavoro ma si tratta di lavoro minorile allora ora mio marito che c'è una certa età hai tuoi dati e hai figli sì ce l'ho ma sono tutti e due fuori da lavorare sì perché c'è uno di 8 anni e uno di 20 anni a Napoli si fatica fino a 12 anni e ci mi dispiace non posso fare niente e ho già tutti e due in pensione non posso faticare signor io me ne lavo le mani vabbè la correttezza io me ne lavo le mani sì signor per precisione io me ne lavo le mani io me ne lavo le mani io me ne lavo le mani fatti cura la doccia mi dai vabbè per me quando me ne porto ma ma state esagerando io ho fatto il mio marito allora disse non si arrendono non si arrendono e chiudo in un altro posto che ho bisogno di lavorare ho bisogno di lavorare e chi sei tu andato teniamo il lavoro ma si tratta di lavoro nero per vostra moglie allora cioè non per dire no io a me mi vanno bene i pazzi mi vanno bene i pazzi non mi faccio bussare nemmeno non sei già qua allà allora ha detto no ti sei a dire lavoro a mia moglie preferisco tenere a casa umile ma onesta allora ha detto niente niente da fare però non si arreste non si arreste è andato in un altro posto e chi sei tu andato teniamo il lavoro si ma si tratta di lavoro accortiamo allora lì si è rimasto un po' questo punto e ti scusate ma è possibile che a Napoli solo il lavoro non se ne trovi è sempre con una parola vicina è un'esagerazione pure proprio proprio indietro a me devi venire a suonare sto creando l'atmosfera celestiale sto creando e non ne avevo creato alla allora allora ti sento non vedo annunciazio annunciazio su marì marì fai il figlio di salvaglio no 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 aspetta aspetta qua qua stai peggiorando eh che breve annunciazio 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 tu marì marì fai figlio di salvatore gabriele ti ha dato la buona notizia annunciazio annunciazio salve regio buongiorno buongiorno gabriele guardi come tu sei scema gabriele a casa da frenino poco su fatti e poi un'altra cosa su fatti lo carubino deve finire che è il light che lo mandi tu qua poi posso tenere chi si indagare su quello coso indietro per vedere un poco che può fa scema proprio c'è la casa è umile ma onnesto ho fatto il mio marito allora disse non ci arrende non ci arrende è andato in un altro posto e chi sei guardate noi abbiamo una cosa che fa per voi proprio per lavorare dice veramente abbiamo un lavoretto allora il mio marito ha detto va bene ha detto si si tratta di lavorare di meno tanti di guadagnati allora allora gli ho detto no forse non ci siamo capiti ho detto che tengo per voi un lavoretto mio marito ha detto lavoretto scusate ho detto stessa parola lavoretto se lavori meno allora gli ho detto no non ci siamo capiti tengo per voi un lavoretto non guardate a me guardate a mano un lavoretto come mio marito ha afferrato questa cosa la mano non è che no allora allora direte voi direte ma ma si facessero tutto quanto così a Napoli non faticasse nessuno e beh invece io vi rispondo sì non faticasse nessuno è andate andate una cantina permesso signora nel libro del destino no 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 scusate c'è il libro non ce ne serve è che questa è una povera casa pescatore enciclopedica un povera non ci serve niente signora ma io sono un re un re sono venuto dal lontano oriente per portarvi in dono loro no sono venuto dal lontano oriente per portarvi in dono vincenzo No, sono venuto dal lontano oriente per portarvi in dono La mirra Io ho saputo Come si può fare? Chi le tre sui rimaccio? Quale mi capita a me che le cammi? No, che poi che resta a mirra Non ho mai capito che resta a mirra La mirra è un'erba medica che si dà agli ammalati Mamma mia, lo caro Ai moribondi Mi piacere, metto il logo Noi già siamo così bello combinato Noi già siamo così Hai visto la stella? Che bella, che bella Lo disse il profeta Che era cometa Maggio, Maggio, mi piacere Sto parlando Hai visto la stella? Che bella Non l'abbiamo vista la stella Che troppo non fa sì 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 Che cazzo umile monese Che, che senz'atmosfera celestiale Gabriele non ci sta? Non ci sta Ma è venuto? Ma perché mi avrà dall'appuntamento Ha lasciato dito qualche cosa? Non ha lasciato dito, sai come fa bene? Cazzo, batti i piedi per te Cioè sono le trombette Cazzo, batti i piedi per te Allora, allora Madonna Non ha lasciato dito niente Ma si vede Un luogo Annunciazione, annunciazione Aspetta, aspetta Annunciazione, annunciazione Avemi sbagliate casa Anunciazione, annunciazione Grazie a tutti